Iniziamo con i saluti, mi sono particolarmente creata nell'università e nell'università del Dottore Tordia, mio direttore, in questo momento mi sento quasi molto piada nel mio ruolo, però mi sono creata, per tutto come Presidente del Consiglio, perché ha accettato con il campo ospedalente del nuovo pubblico e il suo, con l'attenzione che ha ai confronti del territorio, accettato tutti per chi deve essere qui da noi. Ringrazio anche il Dottore Tisano, responsabile dell'ERPB dell'Arcettio di Chiracusa, la Dottore Sama Lignacci, responsabile del servizio screening dell'Arcettio di Chiracusa e il Dottore di Chiracusa e il Dottore Tisano. Presidente del Consiglio Comunale, perché questo è il luogo giusto dove le problematiche della città vanno discusse. Il processo civico è il processo in cui i consiglieri comunali si incontrano per dialogare, per confrontarsi. Ho sempre visto il Consiglio Comunale come inemaculare la riunione tra la qualitatività, la base ed l'esecutivo, quindi è qui, a mio parere, è solo qui che le problematiche vanno portate, discusse, affrontate e se possibile anche risolta. Volevo fare una piccola storia anche per raccontare, perché c'era una volta un altro direttore e agli gentili ospiti, da dove tutto è venuto fuori. in data 28-11, durante la seduta di Consiglio Comunale, alcuni consiglieri firmatari hanno portato al sindaco, e hanno portato in una interrogazione al sindaco che avevano oggetto richiesta di indagine epidemiologica sui casi di patologie comunali, e intendevano chiedere se l'assistico si chiede all'istituto di igiene pubblica responsabile sia del prototipo al voto e avvenuto di aprire un'indagine dell'ecanostica sui malati di tumore dei cittadini residenti, diregendo il comune in Aie e invidimando ai malati attraverso il codice 018. A questo primo atto è seguita un'interpellanza dell'onorevolezza in assente regionale che un po' accentuava e produceva allarme non solo sulla provincia di Seracusa, ma in maniera ancora più dettagliata sull'automobile o il primo. In data 9 gennaio, una rivista online, la presa d'Occurità, pubblicava un articolo, un articolo un po' diciamo da Iconi e Incubati, parlato della terra dei fuochi siciliana, le misteriose monti hanno fatto solo a prendere. Tutto questo nel mondo che ha portato un notevole ricaduto dal punto di vista sociale, dal punto di vista umano, producendo allarme, producendo paure, producendo anche difficoltà da parte delle cittadine che tra i libri e i cortile della nostra città hanno individuato come la città di Palazzo Magretti fosse diventata quasi un'orsi di patologie tumorali. Il Sindaco, in accordo con il Consiglio di questa Presidenza, ha chiesto ufficialmente dei dati all'asso di Seracusa ed è qui che vogliamo confrontarci proprio con questi dati perché secondo me questo è l'unico posto nel modo in cui si possono fare affermazioni, non c'è producendo quella che noi siamo posti antimedici, ma abbiamo di evidenza scientifica quindi di verità e di servizio alla canna del campo. Abbiamo anche quindi avuto un po' di risultati dei risultati e in più ci è pervenuto un ministro della scorsa settimana anche i dati di un'archivazione del caso da parte della procura di Seracusa, caso che sia rilascato, vedo una raccolta di firme da parte di 111 stradini che allarmavano un po' la procura su alcune zone, in particolare Montella da Veneta, Montella da San Marco, quartiere San Paolo, in cui erano, si pensava che fossero stati, si è perdite dei gusti e contatti, quindi si è fatta un po' questa raccolta di firme che si è fatta un po' questa raccolta di azione. Credo che adesso, in maniera molto serenata, in maniera molto tranquilla, possiamo produrre finalmente dei dati certi, dei dati scientifici e dei dati che ricordurrono, spero, un po' di serenità alla città di partenza dell'Aidea. Per cui chiederei tanto al proprio gruppo, dott. Sigilasone, di verbalizzare un po' gli interventi, perché essendo un consiglio informale, non abbiamo la presenza del segretario generale. E poi, in chiudo, vuole dare un contributo per fare tutto dopo aver ascoltato il dottore, il dott. Lisano, che ci faderà proprio dei dati di incineria e di mortalità nel territorio di connessione dell'Aidea. Le ringrazio. Grazie. Grazie per l'invito. Buonasera a tutti. Volevo promettere che il registro di muro di Siracuzza è avvolta già nella nostra azienda dal 1999. Da allora è stato possibile già produrre diversi studi di incidenza e di mortalità. Studi di incidenza su tutta la provincia, ovviamente, per singolo comune, che hanno prodotto delle evidenze già dei risultati pubblicati con diversi dati. Gli ultimi attelanti pubblicati risalvono, per quanto riguarda l'incidenza, al periodo 99.15, come dati pubblicati tecniche. Mentre per quanto riguarda la mortalità, addirittura dal 1995 fino al 2005. Questi dati di incidenza, ossia che stanno a sottintendere il numero di nuovi casi di malattie. I dati invece di mortalità, qualsiasi numero di decessi per ogni singola patologia della provincia. Soffermandoci sul comune di Barazzola Breve, hanno evidenziato, sostanzialmente, non hanno evidenziato eccessi statisticamente significativi possibili. Adottando delle tecniche statistiche del mondo, quindi con delle metodologie statistiche, si è visto che il numero di casi, nazionali, sia nei maschi che nelle fermi che ci sono stati dal 99-2005, non hanno denotato degli eccessi significativi. Quindi questi sono dei dati ormai assolutamente certi, artificiali e pubblicati sull'Atlanta, che è possibile visionare e che sono state a disposizione su delle nuove amministrazioni. Per quanto riguarda questo ultimo periodo, quindi l'aggiornamento dei dati dell'ultimo periodo, bisogna dire che adesso l'incidenza è stata aggiornata fino ai casi che sono spraggiunti dal 2006 al 2011. Per quanto riguarda invece la mortalità, addirittura siamo dal 2006 al 2011. Allora, questi casi sono stati poi tutti, diciamo così, attraverso la supervisione dell'edizione scientifica del registro dell'Istituto di Igiene di Catania, del corso del sciarca, sono stati esaminati e nella loro totalità, nel loro contesto, sia per maschi che per termine, non ci sono stati degli eccessi statisticamente semplicitativi. Spiego un po', in maniera molto sintetica, la metodologia che è stata adottata. Si sono sostanzialmente esaminati il numero di casi che ci sono stati così in tutto il periodo, quindi dal 99 fino al 2009, sia come i decessi che anche con il numero di casi di Catania e si sono rapprontati al resto dell'ambito del processo. Facendo questo raffronto dei casi di Parazzolo, con tutti i casi del resto della provincia, sostanzialmente non si sono dati degli eccessi che statisticamente semplicitativi. Quindi, non entro nel dettaglio della metodologia, perché ci potrebbero magari approfondimenti che non sono più stasera. Però, posso dire che per la totalità dei casi, per il momento, non sede per sede. Per la totalità dei casi, non ci sono stati degli eccessi significativi. Mi permette adesso soffermere un po' di più sul dato dell'incidenza. Sostanzialmente l'incidenza che ci dà il numero di nuovi casi, abbiamo detto che per ogni singola sede, quindi per polmone, per mammella, per polmetto, per stomaco, le sede più importanti, fino al 2005 non c'erano degli eccessi significativi. Quindi, in questo ultimo periodo, dal 2007-2009, non ci sono state delle impennate a livello di numeri di casi che ne si anno per anno. Quindi, anche se non abbiamo operato una statistizzazione sede per sede, al momento, è però simile ipotizzare che l'andamento che è stato visto fino al 2005 non possa essere cambiato in questo periodo. Perché? Perché la malattia non aveva una malattia che riconosce una latenza molto lunga nel tempo, quindi occorrono parecchi anni prima che si manifesti una malattia, dal momento in cui i fattori di rischio ha gestito. Cosa significa? Significa che, quindi, se non abbiamo notato degli eccessi importanti fino al 2005, non è neanche ipotizzato che trovavano gli stessi eccessi in questo ultimo periodo, proprio perché sono state malattie che hanno una latenza molto lunga nel tempo. Quindi, al momento, quindi, i dati, diciamo così, su questo comune ci dicono e ci suggeriscono questo. Per prestando che poi il dettaglio con standardizzazione, con eccetera, con tutto il resto, può essere magari meglio esplicitato e data non appena avremo eseguito la standardizzazione di risposta. Però già mi sento di anticipare che, visto che questa standardizzazione fino al 2005 non era notata negli eccessi, è vero simpaticizzato che, rimanendo questo che è il numero di casi in anni, ma anche in questo primo periodo, fino al 2009, anche standardizzando, non si provavano delle anomalie rispetto al passato. risposta. 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 che ho fatto l'esame. Bene, cosa abbiamo trovato nell'arco di questi tre anni dal 2010 a dicembre del 2013? Non abbiamo trovato nessun caso di carcinoma, questo non è un tattivo semica perché lo scopo dello scritto non è quello di andare a trovare tumori, quasi tumoreggianti che si manifestano, ma bensì tumori che sono ancora in una fase astutomatica e non hanno bisogno di sé, perché lo scopo è proprio questo, andare a cercare delle lesioni non asintomatiche per poter poi eventualmente scordire che sono anche delle lesioni pericolari o delle notazioni in fase modifiziale e effettuare degli interventi non eccessivamente devoluzionali. E quindi non abbiamo trovato nessun caso di adenocarcinoma, abbiamo trovato solo un caso, solo uno su 1114 donne che si sono sottoposte alla testa in tre anni, abbiamo trovato solo un caso di displasia moderata. La displasia moderata, o detta anche C2, è una lesione premulare, non è ancora un tumore, ma se è lasciata in sito, se non è eliminata la lesione potrebbe portare ad un tumore dell'arco di antiuniani. Questo per quanto riguarda il tumore del polvo di neutro, quindi un solo caso su 1114 dolore. Vediamo adesso la mena. Per quanto riguarda la mena, il test di iscritti viene effettuato nell'arco di due anni, significa praticamente che le donne sottoposte all'esame e alla nomografia, nell'arco di due anni devono essere invitate tutte, tutta la popolazione target. La popolazione target in questo caso riguarda donne da 50 ai 69 anni, anche queste sono state entità di effettuare la nomografia, queste non sufficienti, le esigenze del tasto, e a 1173 donne sono state inviate, rappresentate nel 100% della popolazione target, della popolazione target, così come anche per quanto riguarda il polvo dell'utero, in pratica in grado hanno utilizzato tutte le donne elegibili. Di queste donne le sono presentate il 32%, e su queste abbiamo trovato solo un caso di tumore. Un caso di tumore su 362 pazienti, praticamente corrispondente, così come anche quello del polvo dell'utero, alla media nazionale. Il colon invece si rivolge, lo spinito del colon retto, si rivolge invece a uomini e donne dai 50 ai 69 anni. Questi sono un po' di più, sono poco più di 2.000 persone, anche queste persone sono state invitate tutte, il 100% che hanno inviato le lettere, ma di queste molto pochi si sono presentate, si rappresenta sul 18%. Molto probabilmente perché c'è una scarsa sensibilità ancora sullo spirito del colon retto, è la prima volta, è soltanto da due anni che è iniziato, prima non si era mai parlato di fare prevenzione del colon, se se ne parlava la gente pensa che sia un metodo invasivo, invece questo non è. Per cui diciamo, ecco, c'è poca, ancora, c'è un po' sono un po' vestire le persone attenzuali a quest'esame, che poi è una semplicissima della ricerca che siamo avuti a avere peci, quindi abbiamo avuto appunto soltanto il 18% dei tesori. E quindi su 455 persone cosa abbiamo trovato? Anche in questo caso è un caso di cancro complanato e infasivo. Invece abbiamo trovato 5 adenomi avanzati e un adenomi iniziale, quindi 6 casi di adenomi. Le adenomi sono presunite linee anche queste, però già in fase, per esempio, 5 sono avanzate, significa che stanno procedendo nella loro patologicità e quindi se lasciate lì, se non eliminato il polico, praticamente questi non hanno avuto un po'. Quindi, come vedete, i numeri ovviamente non sono autistiche, perché comunque è un piccolo cento del nostro, abbiamo anche con i suoi dati, che poi sono queste interessate, le dati di tutto quanto l'incenzi da uso. Le elezioni totali che rientrano nell'ambito della media sia provinciale che regionale e nazionale, non ci sono casi, come dicevo, in un solo caso di tumori, quindi abbiamo morto per quanto riguarda il tumore della mamma e per il resto i tumori invasivi non ce ne sono stati. Grazie. Grazie, Presidente Marignaggi. Grazie. 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 Grazie Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. in condizione di avere dati statistici che bene hanno risposto qua i colleghi, ma mi posso esprimere per quanto riguarda la richiesta di avere dati relativi al codice 048, che secondo me non è stato ben interpretato perché non può essere un dato attendibile e spiegato. E' stato chiesto nell'interpellanza formulata da Don Devole di acquisire i dati del codice 048 a partire dal 1990 a oggi. Benissimo, il decreto ministeriale è stato pubblicato nel dicembre del 1999, quindi lo 048 compare dalla fine del 1999 e prima non esisteva. Questa è la prima considerazione. Seconda considerazione, pensare di avere un quadro delle patologie neolastiche soltanto con il codice 048, a partire mio è sbagliato, perché può essere anche l'ambito costumato. Molte persone hanno i benefici delle qualità, dell'accompagnamento e quindi nel momento in cui hanno un'esenzione di IDET, perché magari c'hanno il 100% l'accompagnamento, non provvedono a fare il codice di esenzione con lo 048, anche perché non ritenuto necessario o opportuno, perché già hanno diritto a tutte le esenzioni su tutte le prestazioni della qualità di imparità, di imparità civile e quindi magari non vanno a chiedere il codice 048. Questo significa sottostimare il dato a questo punto. Quindi non è un dato attentibile avere solo il codice 048 per poter dire quante sono. Nello stesso tempo, se noi andiamo a chiedere quanti tesserini sono stati rilasciati, benissimo, i tesserini, l'esenzione 048, noi sappiamo che la normativa prevedeva un tiglascio dopo due anni, dopo una verifica, poi dopo cinque anni e quindi nel lato dei tempi il numero dei tesserini è come se si fosse modificato, se io era la stessa persona, adesso viene rilasciato con quantità illimitata, perché giustamente una persona a cui viene riconosciuto una patologia teomastica ha bisogno di fare un controllo continuo, un monitoraggio, anche se apparentemente l'endocresia è scomparsa, è stata trattata in modo radicale, ma è giusto che si controlli e quindi ha diritto all'esenzione. Chi è stato operato per il tuo cuore alla mamma è giusto che periodicamente faccia la demografia, faccia la mamografia ciclicamente e quindi non necessariamente deve andare a pagare il diritto. Quindi bisogna stare attenti anche nel momento in cui chiediamo dei dati, che teniamo di poter avere un quadro della situazione soltanto avendo il polo si diceva che non mi pare che si parla, dopo il presupposto sbagliato. Grazie. Grazie. Grazie dottor Ottimo, la serena di sottorosa, la dottor Maria Tazzia, il commissario, si, l'assente, se ne poco, si è una specifica. Allora, io vorrei che sia chiede per niente che si interrotti nelle parole che mi hanno detto, che è l'accoglienza che mi hanno dato, non è solo adesso, perché tutta la sua volta era stato qua, un po' dopo poco, perché io ho proprio sempre la domanda alla loro, questa ha un po' più importanza, io vi ringrazio per l'invito, perché tengo che in questo dia la parte nostra non dobbiamo essere presenti, quindi ho fatto quello che è il mio dobbiamo essere presenti in una comunità, nel momento in cui c'è un intervento importante che la gente quale è, al quale bisogna dare una risposta, quindi la gente ha necessità di capire se quella cosa che viene sollevata può essere verosimile, oppure può essere supportata da dati scientifici o da evidenze o da dati che meritano di essere approfonditi, perché questo è quello che la gente ha voluto sapere nei fatti concreti. Io vorrei, in questa prima fase, non so se i consiglieri avranno sicuramente gli interventi a dare delle domande un po' più specifiche, non sentiranno a noi di capire bene e quindi di rispondere a quello, però in questo momento, come fase iniziale, potrei afferrarmi i due progetti fondamentali, la responsabilità e l'unità, due progetti fondamentali in qualsiasi lavoro che noi facciamo. Io ho avuto la fortuna di fare sindaco per non andare nel mio paese, quindi ho una particolare predilezione per sindaco, una simpatia che per io, dal momento di vita passata, a fare una cosa veramente bella, perché essere chiamati a una responsabilità così grande da parte di quello cittadino sicuramente è una cosa che ti lascia il segno anche per la vita che tu hai da fare in altri anni. Ho fatto anche il consigliere come un anno, quindi mi capisco bene e mi hanno insegnato per questo, per il consiglio comunale, il consenso più importante nel quale ciascuna città cerca di mettere in campo le proprie preoccupazioni, le proprie istanze, le proprie cercare risposte, quindi questo è un ambiente che io, del quale ho rispetto profondo, perché l'ho vissuto per tanti anni e quindi capisco cosa significa da una parte e dall'altra, sin da un consigliere dell'opposizione, quindi ho trovato entrambe le posizioni, quindi ho avuto esperienza di una cosa che voi avete avuto, avete in questo momento, sicuramente abbiamo anche nel futuro, vedo un po' di consigliere di giovani, quindi mi rallenga per Palazzolo, c'è una componente così. Dicevo responsabilità e l'umiltà, e poi mi taccio, non per sempre, fino alla prossima parola di intervento. La responsabilità è innata nella nostra natura, nel momento in cui vogliamo una funzione pubblica, sia il presidente del consiglio, i funzionari, noi, ognuno, e quindi ancora di più quando invece siamo andati a una carriera elettiva, noi abbiamo addosso una responsabilità sia delle persone che vi hanno detto, ma appena finite le elezioni siamo qui il consigliere comunale, comunale della città di Palazzolo, in questo caso, e quindi abbiamo una responsabilità di confronti di tutte le persone e ci hanno dato l'intera comunità. Perché dico questo? Perché nel affrontare quotidianamente la nostra vita professionale o del mandato che abbiamo ricevuto, dobbiamo tenere presente questo concetto fondamentale. Maria Zappia, che è Maria Zappia, che sarà più o meno da definire. Maria Zappia, consigliere comunale, Maria Zappia, sindaco, presidente del consiglio, o dirigente dell'art, o commissario straordinario, ha una doppia responsabilità. Una deriva dalla persona, l'altra deriva dalla funzione. La cosa migliore è che se il tumore non sia lontano, che Maria Zappia dovrebbe essere una persona seria, la Maria Zappia, è una persona seria da commissario dell'art, da consigliere da tutte le altre funzioni che in quel momento c'è. Questa si chiama coerenza ed è una cosa alla quale intendo che è un principio fondamentale al quale io mi sforzo di dare sempre fretta e conto nella mia vita quotidiana. La doppia funzione ti comporta, la coerenza ti comporta essere te stesso per quello che sai fare, bene o male, qualcuno lo sappia fare. E quindi quando agisci e fai così cosa, devi tenere presente che la persona singola in un ambiente X, anomico, può avere, può dire, può esternare tante cose. Nel mio lavoro di commissario, quindi di direzione di azienda generale, devo mettere un po' più di attenzione a tutte le cose che faccio. Attenzione significa anche responsabilità, mi significa so' attenzione che non si spessa. E quindi io, in tutte le azioni, in concreto la mia presenza qua, perché l'ho fatto? Per il Presidente, che è stato un SIG, per il SIG, per la città di Palazzo, ma perché, ve lo diceva all'inizio, ritengo un dovere che il commissario dell'azienda sanitaria provi a dare delle risposte, noi ci auguriamo che ce la facciamo, dare delle risposte, a un problema che una comunità, una zona del nostro attento, l'intera provincia possa avere. Quando mi hanno raccontato, mi hanno invitato il Presidente, mi ha rappresentato l'importanza dell'oggetto della riunione di oggi, che non sapevo cosa è normale, cambia poco, perché non c'è il Secretario Generale, magari non ci saranno le votazioni, però dal punto di vista dell'essenza della riunione, è una riunione importante perché i cittadini di Palazzo vogliono sapere da noi tutti che siamo qua. Se, come dicevo il Presidente, alla fine usciremo da questa riunione di consiglio un qualcosa di utile per chiarirci o, se è necessario, approfondire, perché alla fine, se non oggi, tra un periodo di tempo non molto lungo, dovremo attiviare in un modo o in un altro questo capitolo, avendolo approfondire così come verranno poi dalle discussioni che verranno fatte questa sera. Da quello che voi direte e da quello che noi proveremo a rispondere e per il quale, per tutte le domande, per tutte le cose che vi terrete opportuno fare, vi anticipo la nostra assoluta disponibilità a togliere ogni dubbio, ogni sospetto, ogni interrogativo che il Palazzo allese può avere, può mettere in campo. E qua vi ricorrego alla seconda del mio punto, l'unità, una delle cose importanti in qualsiasi aspetto del nostro lavoro è quello di riconoscere che noi non siamo una scienza entusa, non abbiamo a non sentire nulla verità assoluta. Noi, nel nostro mestiere, il dottore Cristiano, il dottore Coradino, il dottore Sama Vignaggi, la Presidente, tutti noi che operiamo nella sanità pubblica, ci stortiamo di metterci in discussione un giorno dopo l'altro. E' questo che vi dico è programmatico anche per l'oggetto di questa riunione di Sama Vignaggi. Cioè noi rimettiamo in discussione quello che dobbiamo avere, un'unità che rimette in discussione quello che noi abbiamo detto. Perché i dati, vi diceva il dottore Elisandro, la Presidente di Gagnaggi, il dottore Coradino, sono importanti nella misura in cui noi non li riteniamo assoluti, ma soprattutto nel campo della sanità sono dei dati che cambiano costantemente. Quindi la seconda mia riflessione sull'unità è quella che volevo assicurare ai cittadini, poi per esempio il sindaco, tutti voi, ai cittadini di Palazzolo, che noi abbiamo la necessità di umiltà per avere in discussione quello che noi fino adesso sappiamo, delle quali cose tutti noi sappiamo, in scienza e coscienza siamo convinti, perché se no non ve le avremmo detti. Siamo parlando di evidenze scientifiche, quindi non teorie o tesi di Mario D'Apio, degli problemi che hanno lavorato in questo caso, ma sono dei dati scientifici che fino adesso raccorgono tutte le approvazioni di tutti gli organismi siciliani, nazionali e internazionali. Quindi sono dei dati che sono supportati da evidenza scientifica. Cosa vogliamo fare adesso? Se da parte di qualcuno di voi ci sono dati che possono far rimettere in discussione, anche questi non dico dotati di realizzazione scientifica, perché se no trocheremo il discorso fin dall'inizio, ma meritevoli realizzazioni da essere approfonditi, meritevoli quindi di essere approfonditi per il futuro, perché questo approfondimento può essere utile alla comunità di Palazzolo per venire fuori da questo capitolo e arrivare a una conclusione che sia condivisa e incontrovertibile e oggettiva da parte di tutti. Allora noi siamo disponibili a far questo. Una piccola parentesi, poi per il momento finisco. La provincia di La Cusa, nel quale io sono per fortuna da un anno e mezzo, per fortuna significa che sono trovato bene, mi auguro che rimanete, ha dal 1929, dice il dottore Pisano, un registro, partecipa al registro tumore, siamo in secondo modo in Sicilia per la provincia di Siracusa e poi, troppo per una necessità che è insida nella provincia di Siracusa, abbiamo dovuto sviluppare delle competenze e i nostri colleghi si sono dovuti spendere tantissimo in questo particolare settore, che è quello della prevenzione oncologica e quello del volo alto di tutte le malattie tumorali, perché la nostra provincia, ci sapete benissimo che, la diceva anche il Presidente, ha due siti. Il sito di interesse nazionale è quello di Augusto Apriolo, Meligni e tutta quella zona lì, che poi alla fine ha rituenze su tutta la nostra provincia. Poi ci sono dei coccolari studenti per quanto riguarda le malattie tumorali allo stomaco. In ogni caso vi volevo dire che la nostra azienda in questo settore ha speso parecchie delle proprie energie e competenze. Avete visto la dottoressa Maligni, impegnata nel campo della prevenzione, noi siamo stati, fino al 2012, la seconda provincia della Sicilia per l'inclusione dei dati dell'adesione alla prevenzione oncologica. Quei dati del 40-100 che diceva la dottoressa, abbiamo una media regionale che va a 30, l'obiettivo è il 30, salvo dall'ultimo, con un retto per il quale c'è un problema culturale da poter affrontare, è l'ultima iniziativa di prevenzione che abbiamo, per il quale siamo a 18. Però devo dire che la risposta dei siracusani a queste attività sanitarie pubbliche, che sono quelle delle attività sanitarie, è molto buona. Questo non significa, come vi dicevo prima, accontentarsi, ma noi dobbiamo spendere ancora di più energie, forse anche, se possibile, anche risorse economiche, perché questi dati su 2.000 e 2.000 dati ne vengono a 1.800, non a 1.100, così come sono venuti. Quindi dobbiamo implementare in quale è più. Però sia la dottoressa che il dottore Pisano e anche il dottore Codadino vi hanno detto che un dato oggi non lo siamo dato alla città di Palazzocco. Non abbiamo per il momento, fino a questo momento in cui vi sto parlando, di scienza e coscienza per tutti quelli che lavoriamo nella sanità pubblica, ma non abbiamo motivi di allarme perché ci possano spingere a intraprendere nuove attività o altro, che possa essere utile a studiare ogni punto. Ma ricorregandomi a quello che vi ho detto all'inizio, se il Consiglio Comunale, se il Presidente, se il Sindaco vorranno istituire un tavolo tecnico di approfondimento della materia, noi siamo disponibili da dati, non da pensato che c'era una volta. C'era una volta, il Presidente, stava nel senso, che se c'era una volta, questo è un incipitivo di cose belle. Però noi, per quello che vi dicevo, il principio della responsabilità, non è proprio il dovere di parlare, soprattutto per quello che rappresentiamo, una volta che abbiamo chiarito noi stessi tutto quello che noi vogliamo dire e dove vogliamo andare. Quindi, con quest'ottica e con questo obiettivo, da parte dell'azienda sanitaria, avrete tutta la disponibilità a fare al di fuori del Consiglio Comunale, al di fuori di clamori, che ci devono essere, ci devono essere nella fase finale dei lavori, in cui una commissione, vorrei dire che va ai partiti, ma in questo caso non c'è una parte conformante, quindi non è il termine adatto, che comprenda tutti coloro che ne hanno interesse, voglia e curiosità, possa arrivare a una determinazione univoca, arrivata alla quale noi abbiamo la certezza di dire, guardate, c'è questa situazione, vogliamo fare questo e noi possiamo garantirvi una tenda sanitaria che non solo siamo disponibili, ma abbiamo il dovere di fare tutto quello che serve perché la nostra popolazione di palazzolo, come di ventino, di patino, possa stare, non ti dico tranquillo, ma almeno serena, e chi deve fare questo lavoro, in questo caso siamo noi, nella sanità pubblica, lo facciamo in scienza e in forza. Grazie. Grazie a tutti. 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 Se vuoi vedere che effettivamente c'è appena solo questo incremento sulla patologia scolata, se lo vedrai un po' dentro e vedrai. Intanto verificare se queste notizie anatomistiche tra l'alzambra siano bene oppure no. Un controllo maggiore della patologia del rilascio delle terzerine sanitarie della patologia 038 che secondo me ci possono già dare un indizio se in questi anni, che vedete di considerazione ragione o no, non possiamo vedere questo. Quindi effettivamente se ne sono stati presenti, se ne sono stati presenti, se ne sono stati presenti, se ne sono stati presenti un po' con questi vestenti, se ne sono presenti un po' con il territorio, non hai nessun territorio. E questo è una cosa importante a fare, insomma. Anche perché ci sono, se c'è un ingrediente oppure no, non siamo nella vede nazionale, non è utile, è custodabile. E questo qua è il mio soggetto di questo tavolo testico, in cui l'unica delle cose che vengono tuttavia città, siamo in una zona particolarmente arroccetta a un inquinamento elettromagnetico, un hotel, sempre per quanto riguarda la zona di Montevallo, in cui le aziende sono proprio dirette verso di noi, e noi abbiamo, a pochi giorni, che arrivano in grande attenzione a andare in un euro, a un'attesa dell'anno, insomma. C'è tutta una discussione per questo intervento elettromagnetico con l'euro e con l'incidio, però pare che, secondo me, i gruppi stati decidono, e quindi per la scuola di Stato. per fare la nostra attenzione contro questi commenti. Tutto questo è un euro da qui. Sì. 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 Di un sacco. In questa situazione, io, che gli 아�isti giocati insessi il punto di vista degli ag é.... sia dal guides che ci parelta dimensacene, magari ancheкамpe le perciatebbiche a fare la salute funzione. THATENTA! Quello. Fatemi averne in quanto riguarda le particolazioni tutte queste situazioni che ci siamo t compte a l'ex milioni. Sì. La nehmena Instagram, due botte Netto метro, erano dove.. Giuse. O.k., age. Ecco. e tutti noi per questo non sono competenti, sono proprio, la verità è che non è meglio la sciogge della realtà, però... Grazie, grazie. E credo che questa disponibilità, esperanza e produttore di Tassia l'abbia già manifestata, ma credo che sia importante questo che questo cavolo tecnico che hai affrontato sia un punto che è necessario di non fornire o di dare potenzialmente la domanda, perché poi si rendete conto nell'altro modo che la collezione Tassia l'abbia tutta una differenza di termine commerciali, termine di economia, che per questi due mesi ha avuto questo volante, telefonate, gente che non vuole venire accanto, non sta in caso, l'idea di una città in sostenibilità, perché è stato un po' di una città in sostenibilità, anche per lasciarsi, perché a forza non me ne voglio venerirla, non me ne voglio venerirla, perché è una via di carmiglosa, perché si rimane da giornalista, poi poi ci lasciamo prendere anche le parole delle giocatistiche e la stamattina anche a Tivoli, dove ti chiamo, non è neanche a caso che andiamo avanti di questo tipo di affrontare il problema. E io adesso, per esempio, ho fatto io uno, ho messo a prendere la città, che mi ha fatto un po' per la parte del diritto di parlare, quindi prima di lasciare la parola su questo punto dei lavori al signore con la tutta questa spira, voleva incontentere, che era la verza delle soluzioni che i consiglieri tiratari dai gentili ossi del pubblico. Si chiede di parlare? Scusi, una domanda, ma i casi ontologici, le persone che attualmente hanno avuto tumore, stanno svegli, se questi si vengono considerati, quelli che ancora sono in vita della statistica, anche dei nuovi. Sì, hanno fatto la prevalenza, la incidenza sono i casi nuovi, la prevalenza comprendono quelli che erano nuovi, che stanno precedenti, e quelli che lo sono. Poi un'altra informazione, siccome ci parla sempre che il tumore di gamba alla fine, viene scritto che poi la patologia finale è stata la causata, se ne esiste la causata, che è molto d'impatto. Cioè questo perché non viene sottolineato invece anche alla patologia oncologica? Quello è un problema di S.O. il prossimo, la seconda e la terza diagnosi. Di solito viene dichiarata la prima, ma nella politica quando parte anche la seconda e la terza, S.O. e anche le altre. Quindi viene sempre dichiarato questo. E nella statistica che abbiamo noi come prevalenza, si tiene conto non solo della causa di morte che sarà l'impatto, per esempio nel caso ipotetico, ma anche delle patologie conformitanti. Quindi su questo è così in questo momento. Il dottore Belluso diceva che noi siamo al secondo posto, però noi siamo in Sicilia e noi siamo al secondo posto come causa di morte dopo le malattie di origine circolatoria. Intendiamo come circolatoria anche la cerebro vascolare che è l'ictus e tutte quelle malattie di contene. Quindi noi siamo, o perlomeno lo diceva ancora noi, eravamo al di sotto della media nazionale come Sicilia sto parlando. Adesso purtroppo negli ultimi due anni, non qua a Palazzolo, ma in Sicilia, stiamo un po' crescendo anche come padrone più emorale. Siamo sempre al di sotto della media nazionale. Però al di là di tutto questo, queste sono statistiche che interessano per tutte le cause di morte o per quello che può essere, non so quale interesse possano avere. Però in ogni caso penso che sarebbe opportuno, per l'oggetto della nostra discussione, focalizzare sulla eventuale pericolosità o nuova incidenza, che è quello di cui noi stiamo parlando. Perché parlare di terra dei pochi, Federica fa il suo mestiere molto bene, lo diceva anche il Presidente, fa un bel titolo, però fa tanto danno. E siccome non è vero, almeno finora oggi, io mi auguro che non lo sia neanche dopo il tavolo tecnico, neanche dopo le opportune verifiche, però mi sento di poter dire a oggi, in scienza e coscienza, che non solo Palazzolo, se escludiamo la parte di Augusta, di Oro e Merini, dove lì c'è un problema e sappiamo che quella zona particolare ha dei numeri già conclamati che fanno alzare la media, non a livelli esagerati, però lì è una zona in cui è stato compiuto un disastro. Ora noi abbiamo il dovere di verificare se in questa zona, per un'ipotesi di malaffare, chiaramente, per un'ipotesi che ha sicuramente dei risposti che non sono sanitari ma sono penali, ci possono essere queste condizioni. Quello che ha tirato fuori il Presidente, che è dall'attivizzazione della procura, è un primo segnale che ci potrebbero utilizzare. Se ci sono elementi che ci possono riportare a rimettere in discussione, comunque lo spirito di umistà, noi lo facciamo, però l'obiettivo deve essere di fare un tavolo tecnico in cui le persone che hanno interesse hanno soprattutto dati che possono essere utili alla questione, lavorano senza far uscire il lavoro a ogni seduta e nell'arco di 2-3 settimane, 4 settimane al massimo si tira fuori un documento finale in cui esaminati gli altri, esaminati i dati, esaminati quelli che saranno gli aggiornamenti del registro o del nostro registro per patologie, verranno fuori da qua, prima dell'estate, perché questi dati hanno bisogno di essere confrontati nel 2-3 settimane di marzo, giugno, non ce la sovremo fare, potremmo avere anche dati relativi all'anno 2012 e qualcosa per quanto riguarda la patologia per il 2013. Per oggi gli elementi che noi abbiamo non sono tali da allarmare, questo è quello che posso dirvi io che ripeto sempre scienza e coscienza. Se ci sono altre cose con l'umiltà di cui sopra le rimettiamo in discussione, le analizziamo, noi diamo tutto il supporto a tutto quello che noi abbiamo con le nostre competenze, con quelle che sono le spiegazioni di statistica, di outliers, di tutte quelle cose che alle persone non interessano, però alle persone interessano che questo tavolo alla fine produca una conclusione. La conclusione è X. E noi la possiamo dare, il Presidente avrà assorto il suo confido, la cittadinanza avrà una risposta e noi abbiamo dato il nostro obiettivo. Un periodo. Grazie. 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 non che, diciamo così, con lei, anche invece hanno obiettato sull'attentabilità di questi dati perché sono assolutamente, dico da soli, sono moltissime, attenzione, ma oggi sono assolutamente poveri. E' un'altra parte che possono andare a fare in Comune perché, una parte dell'altra, è giusto che si devono risposte giuste perché chi fa stati fatti e, diciamo, con tutte le regole del cittadino, dall'amministrazione, chiede che saranno anche, non solo come cittadino, ma soprattutto anche le nostre utenti. Chiede di passare? Il consigliere di atto è a soltanto. Buonasera a tutti. Come funziona? Intanto, io, grazie al dottore, diciamo, ha raccolto il noccio perché siamo qua questa sera, perché siamo qua questa sera, proprio per questo articolo che è uscito su un giornale ormai, che ha messo, diciamo, un po' in subugno la popolazione, la cittadinanza. E' grazie a questo articolo, questa sera, abbiamo, diciamo, esponente la nostra santità locale. Già sapevamo che erano un po' in subugno sull'argomento perché le attività ascolte sono evidenti e le comunicazioni, gli inviti, arrivano nelle nostre case, annualmente, gli screening e le cose, siamo sempre a corso su questo qua. Allora, abbiamo avuto modo di approfondire scientificamente con dei dati certi che siamo in media, nella media nazionale, nella media sud-a-sicidio, insomma, è un argomento dolorosissimo questo qua, quando noi trattiamo, sentire la parola decesso, 38, 20, 10, e nel caso di una patologia, su un soggetto, su un soggetto che poi combatte quotidianamente con questa malattia, tutti siamo, diciamo, sotto questo sole, sotto questo cielo e quindi possiamo essere conti da qualsiasi cosa. Però dico, come accennato il Presidente, o canzi, noi abbiamo quasi un timore, ormai prevalenziale, in un fronte del giornalismo. Oggi, quando si fa il giornalismo, si ha quasi il diritto di, non so, di scrivere, c'è il diritto di ominoso, ci sono i diritti, però, voglio dire, io penso che nella scuola del giornalismo vengono detto per essere alcuni comportamenti etici, morali, e, voglio dire, quando si scrive, si dice qualcosa, si deve, si deve sapere quali danni si va incontro. Io non lo so se è presente l'autore di quest'articolo, la ringrazio, però, il giorno dopo che è uscito quest'articolo, io avevo visitato, la domenica, mio collega, giusto appunto, la moglie aveva detto questo articolo sul giornale online. il Stato non vediamo perché, questa signora dice, cioè, è un danno, è un terrorismo psicologico che si viene a creare, e io direi chi si occupa di questa, di questo, diciamo, lavoro così particolare, stare un po' attento, ecco, perché direi, cita dei luoghi, questa signora, cita dei vostri tempi precisi, e portanoci in questi luoghi, se ne sei, a conoscenza della mente, cioè, vediamo, effettivamente, dove sono, perché, dico, nessuno può dire che a Palazzolo non siano state commesse questi, questi altri legami, nessuno può dire, noi, voglio dire, ma creare un dannismo così, già ce ne abbiamo tanto da parte, perché siamo sempre su chi va là, su questo tipo di argomento, ogni famiglia è toccata, è stata toccata, e speriamo che non gli siano toccate da queste cose, siamo molto, questo argomento è stato più forte e discusso in questo Consiglio. dico un grande grazie all'arte di Siracusa, che ci comporta, comunque, questa sera, fa chiarezza sull'argomento, e spero che, effettivamente, una volta per tutte, almeno, ecco, per il momento, questo fatto sia stato chiarito, sperando che, effettivamente, non siano assolutamente vere queste voci, metti, mette nelle bocchene, nella bocchene dalle loro, grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. a tutti. e tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. , e tutti. a tutti. , e a tutti. a tutti. , , a tutti. , 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 ,,, , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sia quella, ecco, sincera, non quella che noi in questo senso vogliamo sentire. Io credo che se ci cambieranno in questo percorso veramente ti rendo un lavoro effettivo, effettivo per chi fa l'amministrazione pubblica, per chi è all'interno della sanità e anche e soprattutto per i cittadini, perché sono in questo caso a fare col posto un servizio complessamente importante. Grazie. Grazie, signor Russo. Ci sono altri interventi? Grazie, signor Russo. Ma come ne dice e ha detto giustamente il professor Ramona, non è che un fatto di uno contro altri, non è un fatto di cittadini contro le istituzioni contro i cittadini, non c'è mai stato. Ho sempre detto e soprattutto ho scritto, e questa sera l'ho un tempo e lo rimarrisco. Che quel concetto di responsabilità al quale si è rifatto nel commissario Zappini dovrebbe essere inizio per ognuno di noi. In primo luogo in quanto cittadini di questa comunità. In secondo luogo per il luogo che ognuno di noi stiamo chiamati a svolgere all'interno di questa comunità. Per questo scritto in una risposta all'interrogazione del consigliere che non era riferito all'interno, ma era un'informazione generalizzata, ritengo irresponsabile tutti i colori che fomentano notizie su questo argomento non basate su tale oggettivo. E questo è la loro vero. Cioè per me sono i responsabili tutti coloro che alla fine commentano o alla fine sostengono argomentazioni di poco che non sono supportate da dati oggettivi. Io sull'articolo di cui si è tanto discusso non ho fatto in maniera che si è tranquillo. Io ho la foto incazzata. Ma è incazzata da cittadino dalla solezza. È incazzata soprattutto ma in quanto sindaco è il rappresentante di questa comunità. Perché chiaramente non posso condividere in quell'articolo. Un'articolo che non c'entrano mai con l'articolo. Un titolo in cui buttano la tese e la tese ombre sulla nostra comunità. Gli strani casi di palazzo, la terra dei pochi di città, ma sono parole che tanti. Da una persona responsabile, guarda, mi sento, io le trovo pesantissime, uso un'articolo assoluto. Perché io mi sento responsabile nel condurre questa comunità e ne rappresentare. Non posso che essere ingattato nell'interesse della comunità. Perché poi so, andando a leggere un articolo, capisco che non c'è rispondenza con chito. Ma intanto quell'articolo ha creato danno alla comunità. Ha creato danno al territorio. ha creato danno agli operatori economici di questa comunità. E io guardate, mi meraviglio, come ognuno di voi, chi ha detto questo articolo, non si indigni davanti a questo titolo. Però la persona responsabile, e lo voglio sottolineare, non abbiamo fatto, ho preferito non fare alcune risposte. Perché poteva diventare una risposta su una risposta. Il sindaco della comunicazione che risponde. No, facciamo i passaggi tutti perché ci sentiamo responsabili, perché ritengo di essere responsabili. E penso poi, veniamo poi con quelli che sono i dati basati sulla scientificità, i dati basati sull'oggettività delle azioni. E come non posso non indignarmi di fronte a un articolo in cui si fa un'affermazione del tipo in Contrada Pianente, circa tre anni del titolo, Contrada Pianente, tutti sappiamo che non è il territorio di Palazzone, purtroppo. Però si parla degli stati casi di Palazzone. Contrada San Marco, territorio primoso, purtroppo. Però si parla degli stati casi di Palazzone. E come può essere? Dico, siamo al Palazzone o siamo in un'altra realtà? Cioè io praticamente non lo capisco perché questo volesse accadere sul Palazzone. È veramente motivo a non capirsi. Perché parliamo di menzioni che sono due Palazzone, questo si parla di Palazzone e il Palazzone si entra come la Terra Devo. Circa di anni fa, in Contrada Pianente furono notati dei camion che di notte deposcavano del materiale, non meglio identificato nella Cava di Proprietà di Pianente Iudica. Tali stati furono denunciati all'amministrazione comunale di allora, ero sito a due, che tacitò la facenza affermando che si trattava di inerti e non diposte, alcun motivo per la donnazio, tacitò. Ma tacitò che significa? Ma forse io ho dei poteri particolari, se chiede, ho la possibilità, ho l'evanore di tacitare alcune cose che tra l'altro è inostante e segnalate alla procura. Quindi un articolo di questo, ma che cosa significa? Se non le potete portare oltre per forza su una comunità e su un paese, tacitò, il sindaco tacitò. Come potevo tacitare queste cose? Avevo fatto solo delle affermazioni, basate su quelle che erano le conoscenze di questo comune, ma non le conoscenze per sentito dire, su quelle che erano le carte che aveva il comune. In quell'occasione, e a dire, anche il Consiglio Comunale, che custodava il Consiglio Comunale, l'ha provato, quella di cui parlate è una discarica per i inerti. Conferisce anche il comune di palazzo e rete quando ha bisogno di portare degli inerti, gli inerti probabilmente dalla demolizione delle carte o dalla quelle che sono le nuove organizzazioni di terra che si fanno per i cambiere piedi. Quindi ho una certezza di strada, se si scagna i elementi, quello ho detto. Ma non avevo sicuramente il potere di necessitare un bel nuovo, tant'è meno che la Procura poi è andata avanti e è arrivata a delle conclusioni che poi chiaramente voglio portare, diciamo, a conoscenza di tutti. Come posso condividere queste macchie che sono i vantaggi che fanno, diciamo questo giornalista che l'ex, fa dei vantaggi in cui correga le cose con una facilità, perché comunicativamente è fatto molto bene all'articolo, con una facilità in cui sostanzialmente le cose sanno che si leggo e pare che siano una conseguenza dell'articolo. Io non lo so, quando parla che i 111 firmatari che le spostano alla Procura, si rivolgono alla Procura e il caso viene dato all'articolo del procuratore ma un senso muscolo in quale nel 2011 fu un posto sostenghietta, cioè così come è detto e forse non si stanno un posto sostenghietta per questa licenza. Allora, ma la cosa è che si scrive una gestione anche con professionalità e con quella che è l'intenzione delle cose che si vogliono pubblicare e qui dico l'altro concetto che vuole è la professionalità e anche la sincerità in quello che si vuole in situare o in quello che si vuole dire. perché quello è il punto di professionalità. Quello è il punto di professionalità e certi passaggi sono dei passaggi antichi e di quibos così come altri sono passaggi che potrei dire anche i quibos. Tirando il parlo lo avevo restito come se non avevo restito si fosse occupato della licenza di papazzolo e nessuno poi gli avesse voluto risuovere. chissà per quanto motivo l'azienda non dà risposta al non avevo restito e che c'entra il non avevo restito con tutto i messi di scelta? Con gli strani casi di papazzolo. Cioè che c'entriamo noi c'è la risposta dall'arpe rispetto alle varie interrogazioni o alle varie richieste del non avevo restito? perché fare economicamente di questo tipo? Sempre per creare ombre sulla comunità? E' una cosa perché in qualche modo dobbiamo interrogarci noi dalle cittadini palazzoletti noi da responsabile delle istituzioni dobbiamo capire perché questo è un articolo. E lo dobbiamo capire chiaramente assolutamente anche 10 stati pronti e io ringrazio tutti per quello che è stato detto per la disponibilità che sono andata eppure alla fine per chiudere la giornalista sembra riduciosa ma si aveva tutta questa iniezione di entrare riduciosa e tramava le informazioni perché questa sera non è presente o perché il vostro seditore non è presente dove poteva trovare riscontre a queste nuove idee della sonda l'azzo ma perché però dico io un po' forse perché non ci si vuole confrontare io stesso raggiudo teletonicamente per due minuti sono stato interrogato e ho detto perché non ci incontriamo e non ci scrivo un articolo ho chiesto solo questo vuole scrivere un articolo incontriamoci perché non sentiamo veramente l'azzo per chi scrive e non vuole altre cose perché avevo intuito invece c'era qualcosa in area invece no ci ricordiamo l'articolo che girano in tutto il mondo web che lo condiviscono gli strani che arrivano da solo Cine definisce strani fa va solo come se la giornalista avessi incontrato solo soggetti strani guardate nell'interesse della comunità dico se qui c'è qualcuno che si è comportato in maniera strana è proprio lei e lo dico in maniera continta perché vuole andare a cercare le nazioni strane del paese che decida strane oppure in qualche modo sono le persone che ci sono proposti a lei cioè c'è qualcosa che non è chiaro ma sicuramente non siamo strani in questo paese così come non abbiamo casi strani e chiudo dicendo che i casi strani sono stati chiariti dalla sua cura questa realtà che dice strane è cita questi tre canti è stampato in territorio di una sola poi parte un accessorabilitato davanti gli indiani sportivi caso strano pianetto e vi ripeto non è il nostro territorio e stammetto che non è il nostro territorio prima di dare risposta ho chiesto una cura perché mi sembra una cosa più logica e più semplice da fare così come ringrazio la dottorezza trombatore ringrazio tutti i consiglieri che chiaramente si sono adoperati per avere il cambio del registro d'umore per sentire responsabile del registro d'umore ho chiesto alla procura ho fatto un'istanza scritta non una cosa detta parola ma che sento responsabile nel ruolo e se ci sono cose da chiedere sono il primo che sono subito disponibile a chiedere ma rispetto la cosa della sospensattia sulla parte di carri sulla parte sulla parte di informazioni che possono essere obiettive la dottore finalmente risponde e dice questo è il pubblico ministero dottoressa guarnaccia che ha preso il caso dopo che è stato trasferito comprata da il terreno di cui ha la denuncia la denuncia è quella firmata dalle 111 persone non so se sono tutte di quella sola o se sono perché io queste 111 persone firme non le ho mai viste o non ricordo di averne viste e risultato trovare che i porti della strada provinciale quindi nella denuncia ma dovessi esserci le foglie e i particelli di proprietà privata palestemente non utilizzare il primo di qualunque porta di decisione contrata di nessun elemento penalmente risalante è inerso all'esito dell'attività d'indagine per la strada di San Paolo sapete tutti perché siamo di una sola è stata dissequentrata da diversi mesi per quanto sopra il pubblico pensiero chiede il 23 ottobre del 2013 alle accioni di aggir disposti la migliazione del procedimento e la contenente dell'istituzione degli atti al proprio official quindi tutte le citazioni che andiamo nell'attività sostanzialmente sono state chiarite dall'altro della propria e la propria e il pubblico ministero mi ha disposto sull'attivazione io credo che questo io ho fatto già significativo ma soprattutto oggettivo che i tre casi segnalati in quell'articolo sulla base di 111 per Natale sono risultati legalmente riservanti cioè si è criticato a qualsiasi dubbio e poi io raggiungo diciamo non è così nel mio picco ma secondo voi secondo voi se avevano già portati gli scritti sotterranei perché questo è quello che sento sempre dire perché li dovevano portare a San Marco perché li dovevano portare a Pianetta dico escluso in me che Gianni questo sito è stato controllato dalla fiscalica per il in due luoghi io faccio di professione sono valore di scienza gradi e ne faccio in due luoghi dove scavando vostra storia già 30-40 centime se c'era la roccia sfiorata allora però per la roccia di quei luoghi forse sono entrati in azione degli scavatori perché guardate che di questo stiamo parlando ma allora se si voleva fare una cosa più intelligente di pensare una cosa che aveva un riscontro oggettivo come mai non si è pensato a palazza o a ciuglia dove scavando e il professore lo sa anche 20-30 non si trova la roccia neanche volendo cercarsi e tutto questo materiale che è stato poi preso dalla roccia dove è stato contato non è che può passare il vostro affaro così cioè ci dobbiamo interrogare anche delle cose e in qualche modo racionare anche cosa logica delle cose incontrata a San Marco c'è la principale fonte di approfessionamento del comune di nostro acqua potabile che viene controllata non mi ricordo cosa aveva detto ogni mese ogni due mesi fonte sia il pensionamento idrico che non ha dato mai problemi perché ne hanno anche riscontrato riscontrato ma allora capite bene che sono luoghi così libere che qualcuno comenta e qualcuno purtroppo irresponsabilmente strumentalizza ma noi abbiamo la responsabilità anche per questo domenica abbiamo veramente la responsabilità e quindi sono io il primo che ha chiesto al commissario di certi e a tutti i responsabili che esistono d'umore e la sofferenza malignasi e a tutti voi se ci sono veramente elementi oggettivi facciamo questo tavolo di lavoro facciamolo con responsabilità acceleriamo il lavoro ma partiamo dal dato di oggettivi perché io a voler mi dice non si trovo non si trovo a meno che non faccio quello che ho detto non sono delle cose che hanno ma io non si trovo grazie 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 senato se non ci sono più i presenti possiamo vedere la la seduta del Consiglio Adesso io desideravo ancora una volta ringraziare il nostro commissario e volevo parlare o no di una fila però questo è un mio del e di un amore di questa città come lo è già e forse perché la città è tra un momento e altro anche come sofferenza e resta sempre conoscere con la propria anche tutti gli obbligo la dipendente ho ! 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 Grazie.